Buongiorno e ben ritrovati, buon fine settimana, oggi sabato 16 settembre, siamo qui per la nostra consueta rassegna stampa del mattino, andiamo a vedere anche oggi cosa ci propongono i quotidiani in edicola questa mattina, andiamo a fare il nostro classico giro delle prime pagine per scoprire insieme quali sono gli argomenti principali, i temi caldi di questa giornata. Cominciamo subito, lo facciamo dal quotidiano La Sicilia, tanti gli argomenti in primo piano, uno di questi, il titolo è Incroce, ricordato a 30 anni dall'omicidio Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia, il Papa, dice, ha dato se stesso per amore. I salari bassi contro i giovani, a parlare la presidente Mattarella, che sprona il governo e le imprese, no, dice il capo dello Stato, alla tentazione di cavalcare le paure, capitalismo di rapina, pericolo per il sistema. L'inflazione frena, ma rincara ancora il carrello della spesa, dunque, nuove stangate in arrivo per le famiglie italiane. La cronaca, autobus dei migranti contro un tir, muoiono due autisti favaresi, stavano appunto trasferendo in autobus un gruppo di migranti che aveva lasciato la Sicilia. Questa dunque è una vera e propria tragedia sullo sfondo dell'emergenza, scrive giustamente la Sicilia, mentre von der Leyen andrà a Lampedusa con Giorgia Meloni per affrontare l'emergenza migranti. L'Europa, a tal proposito, apre all'Italia e Macron cambia idea. La solidarietà è dovere, dice Macron. Catania arriva una multa a un dentista che scopre di avere una fuoriserie a sua insaputa. Caltanissetta, gli ordini sui social, così il grossista riforniva di droga a Grigentini e Nisseni e poi, caso archiviato, nessuna nuova P2, la loggia Ungheria era una bufala dell'avvocato Amara. In taglio alto, addio a Franco Migliacci, fece volare Modugno cambiando la musica italiana. Giro delle città, Catania senza casco davanti la caserma, multati a Cireale. Il sindaco Barbagallo deve essere assolto. Masca Lucia parla alla mamma di Elena che dice, volli, la gravidanza e poi taormina, la mafia investe anche nel turismo. Lasciamo la Sicilia, andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Sicilia. In primo piano ancora l'emergenza migranti, accoglienza a parole, titola il giornale di Sicilia. Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen andranno insieme a Lampedusa, ma mentre la Francia apre la richiesta di maggiore solidarietà, la Germania continua a fare muro. E poi il trentennale dell'omicidio di padre Puglisi, mafiosi vigliacchi e senza onore, a parlare il cardinale Zuppi che ieri ha reso omaggio appunto a Don Pino Puglisi. L'autobus con i profughi si schianta contro un tir, vittime due favoresi, il mezzo era partito da Porto Empedocle, l'incidente è avvenuto sulla A1, davvero una incredibile tragedia. Sanità, nuovi manager, Schifani punta solo su quelli di prima fascia e poi cronaca da Gela, agguato a due fratelli, arrestati, i colpevoli sono due, in questo caso le persone finite in manette e poi donne incinta morta, gara di solidarietà per i funerali, oggi la cerimonia. In taglio alto spazio anche per il calcio che riparte dopo la sosta il Palermo di scena ad Ascoli, i rosa ad Ascoli a caccia di punti e conferme, scrive il giornale di Sicilia, dunque in bocca al lupo ai ragazzi di Corini e poi addio a Botero, rivoluzionò l'idea del corpo, aveva 91 anni. Anche sul giornale di Sicilia le parole di Mattarella, monito alla politica, non cedere alle paure o peggio alla tentazione cinica di cavalcarle. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, vediamo cosa ci propone in prima pagina l'edizione palermitana del quotidiano La Repubblica, da un'emergenza all'altra, in questo caso non è l'emergenza migranti ma l'emergenza sanità in Sicilia. Visita urgente al cuore, ripassi fra 55 giorni, la roulette salute in Sicilia. La regione è in pressing su Aspo e ospedali per ridurre le liste d'attesa ma intanto chi prova a prenotare un esame si trova davanti tempi biblici. A Palermo, in crisi, pazienti oncologici, due pet rotte. Insomma, situazione davvero molto complicata, in questo caso si parla di Palermo ma è una situazione che riguarda un po' tutta la Sicilia. Lampedusa, ragazzi in cerca di cibo, Favara piange i morti sull'autosole, via ai trasferimenti e una tragedia avvenuta sul pullman, lo abbiamo visto prima, con due siciliani, due autisti morti. Le case distrutte e troppi silenzi, protesta due mesi dagli incendi, il corteo, le famiglie in corteo, le famiglie ancora non risarcite, parliamo degli incendi avvenuti appunto durante l'estate in Sicilia, vedete ancora tante famiglie sono in difficoltà. L'intervista, Isabella Ragonese, libere di scegliere senza più paura, il festival invece con Valeria Golino, l'arte di Goliarda aiuta tutte le donne. E poi, guardate questa notizia, boom di dottorandi asiatici, i cervelli venuti dall'est spopolano all'università. Lasciamo Repubblica a Palermo, andiamo a vedere l'edizione nazionale del quotidiano La Repubblica, in questo caso in primo piano c'è il governo, il governo in affanno, scrive Repubblica, che titola il venerdì nero di Giorgia Meloni. Precipita la crisi dei migranti, la Premier, decine di milioni in arrivo, blocco navale europeo e campi di detenzione. Scontro, Lega, Fratelli d'Italia, Parigi, Berlino e Vienna sigillano i confini e all'ecofin in processo a Giorgetti su MES e PNRR. Salvini intanto chiede un incontro alla leader dei neofascisti tedeschi. Strage di Ustica, prime ammissioni dalla difesa, sette documenti sono ancora segreti. Da Repubblica al Corriere della Sera, scontro totale sulla questione migranti, la Lega attacca e Meloni, von der Leyen venga a Lampedusa. E poi no a paura e dirigismo, parla Mattarella che scuote l'assemblea di Confindustria e lancia un messaggio ai partiti. Il capo dello Stato cita Roosevelt, Marina Berlusconi, tassa sugli extraprofitti, grandi perplessità, queste le parole e il pensiero di Marina Berlusconi. Lasciamo il Corriere della Sera, ci spostiamo sul quotidiano La Stampa, anche qui l'emergenza migranti in primissimo piano, con le parole, vedete, di Giorgia Meloni. Basta migranti, la Premier cede a Salvini, nuovi campi perimetrabili e sorvegliati, detenzioni più lunghe e missioni navali. Sbarchi senza sosta, von der Leyen sarà a Lampedusa, parla il regista Garrone che dice il dramma è l'indifferenza. E poi, occhio al Covid, scudo anti-Covid, titolo alla stampa, campagna vaccinale, piano di schillaci, si muove anche la Francia. Dal quotidiano La Stampa al quotidiano del mattino, vedete stamane l'argomento di riferimento, è sempre lo stesso, ovvero le parole, la presa di posizione netta da parte di Giorgia Meloni sull'emergenza migranti, missione europea per fermare i barconi. Il Premier scrive a Miscella, invito a Lampedusa per von der Leyen, illegali trattenuti per 18 mesi e nuovi centri, misure straordinarie nel Consiglio dei Ministri. Non solo Caivano, blitz nelle zone a rischio di Napoli, piante dosi al Comitato Sicurezza, lotta a stese e gang, Parco Verde, avanti il censimento delle case occupate. E poi, le parole del Capo dello Stato, del Presidente Mattarella, le paure non vanno cavalcate, Mattarella no a protezionismo e dirigismo. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, questa è la prima pagina del Tempo, governo al lavoro sulla questione migranti, festa finita per i clandestini, titolano i colleghi del Tempo. Meloni si rivolge ai migranti che entrano illegalmente, sarete trattenuti e rimpatriati. La difesa costruirà strutture perimetrate e sorvegliate in luoghi poco popolati. Macron prima chiude i confini, poi promette solidarietà a francesi disumani a 20 miglia. In taglio centrale l'ex grillino del Falco affonda Conte, sugli sbarchi, dice, seguiva Lanilia Salvini. E poi Mattarella, il salario minimo non basta, appello di Bonomi, in questo caso all'assise di Confindustria c'erano anche Mattarella e Giorgia Meloni. Il salario minimo non basta, dice in questo caso Bonomi. Andiamo avanti, abbiamo ancora tante prime pagine da vedere insieme. Questa, ad esempio, è la prima pagina della Quotidiano La Nazione che apre con una intervista a Tajani, ministro degli esteri. Non si fermano i migranti con i muri, dice Tajani. Inutili gli slogan, serve la diplomazia. Meloni in calza, missione navale europea e rimpatri più facili. L'analisi di Bruno Vespa. In Commissione europea la sinistra osteggia il piano di aiuti alla Tunisia, i fondi sono ancora bloccati. Mattarella, nessuno cavalchi le paure, ovazione per il presidente all'Assemblea degli Industriali. Andiamo avanti, il quotidiano il messaggero. Mattarella e i giganti del web, alto là sulle regole, il capo dello Stato, le over the top, non siano fuori dalla legge. E poi, vedete, stretta sui migranti illegali. Meloni per gli irregolari trattenimenti fino a 18 mesi e costruiremo nuovi centri recintati. Invito a Lampedusa per Von der Leyen, Macron aiutare l'Italia, pressing per la missione navale europea. Guardate un po' cos'è successo invece. Paura ad alta quota, il New York-Roma giù per 8.000 vetri, guasto sul volo United per Fiumicino. Fiumicino la discesa vertiginosa, vedete, e poi fortunatamente il rientro. Insomma, tanta paura, ma alla fine nulla di grave. Botero invece, l'artista dei corpi rotondi, è morto il pittore e scultore colombiano ispirato dall'Italia. Lasciamo il messaggero, il quotidiano libero, anche qui si parla di migranti, avviso ai clandestini, giro di vite di Meloni, non venite in Italia. Il premier, chi sbarca, resterà fino a 18 mesi nei centri. Poi il rimpatrio, l'Unione Europea sblocchi i fondi alla Tunisia, Von der Leyen invece venga a Lampedusa. Questo l'appello lanciato da Giorgia Meloni. Tajani invece dice che l'Europa non basta, per l'Africa serve l'ONU. Show in tribunale invece di Richard Gere contro Salvini, titola in questo caso il quotidiano libero. E poi terzo grado al governo, Fazzolari risponde alle dieci domande, parla il braccio destro di Giorgia. Lo sport, andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Si riparte oggi con il campionato di Serie A e si riparte alla grande con sfide importantissime come Juve Lazio, ma anche e soprattutto il derby tra Inter e Milan. Questa è la gazzetta dello sport. Derby, fai girare la testa, una pazzesca sfida in vetta, prima volta nella storia, così Inzaghi e Pioli vogliono dare la spallata al campionato. Thuram, Lautaro da una parte, Giroud, Leao dall'altra, accendono i sogni di Milano. Dunque grande attesa per questa importante partita di oggi. Mentre dicevamo anche di Juventus-Lazio, si gioca oggi alle 15, Allegri in agguato, Juve chi si rivede, Max alla prova del Sarrismo. Dunque Lazio, la Lazio che ricordiamo che ha anche battuto il Napoli al Maradona e adesso cerca il bis in casa della Juve. Tutto sport, chiesa Vlaovic, la rabbia della Juve, alle 15 contro la Lazio per superare i casi Bonucci e Pogba. Allegri punta sui due bomber e punge Bonucci una soppopera e io sono Pinocchio, ha detto Allegri in conferenza stampa rispondendo appunto alle curiosità dei giornalisti presenti sul caso Bonucci dopo le parole dell'ex Juventino che ha detto sono stato umiliato dal Juventus. Oggi però non solo calcio, anche la finale dell'Europeo di Vole. Alle 21 l'Italia sfida la Polonia, tutti con voi, gli azzurri difendono il titolo contro la rivale battuta un anno fa nella finale mondiale. Roma pronta a spingere gli azzurri, Palaeur esaurite, un paese che tiferà davanti alla TV. L'ex CT Velasco, questi ragazzi hanno tutto per aprire un ciclo, la via dice siamo d'acciaio. E poi Inter Milan, Guerre Stellari, alle 18 il derby di Milano. Chiudiamo con il Corriere dello Sport. Allegri vale Pep, ovvero Pep Guardiola, parla il difensore della Juve Danilo. Max Guardiola dice stili differenti, stesso obiettivo, vincere e appirlo devo molto. Fede si ispiri anche a Foden. Oggi alle 15 la Juve chiede i tre punti a Sarri. Fede in questo caso sarebbe Federico Chiesa, ovvero uno dei temi affrontati da Danilo. Vedete Pogba, Bonucci, Chiese e Vlaovic. Parla da leader, appunto Danilo, che è uno dei punti fermi della Juve di Max Allegri. Lautaro, Leao, il derby infinito. Inter Milan alle 18 e sold out. E poi, mossa di Rudy Garcia, di scena anche il Napoli oggi contro il Genova. Nuovo tridente, Politano fuori. C'è il Mas con Osimen e Kvalaschelia, dunque Napoli, che punta chiaramente alla vittoria sul campo del Genova. Ci fermiamo qui. Abbiamo fatto e concluso il nostro giro dei quotidiani. Chiudiamo quindi la nostra rassegna stampa. Partiamo a breve però con le edizioni di Spazio e Notizia per tenervi aggiornati lungo questa giornata, questo sabato 16 settembre. E allora anche oggi, come sempre, vi invitiamo a restare con noi. A più tardi.